Eh, Marika mi ha raccontato come è andata ieri sera, eh? Eh, non dov'è. Sono della Campania, ma lui sta facendo... no, neanche. Campania? Campania non è... non c'è solo Napoli, Campania, cioè... Vabbè, un paio della città. Vabbè. Tipo Caserta, non è mica della Campania. Non lo so, neanche io! Io sono Calabria e sono venuto a festeggiare il video. Posevano l'inversione di tutti i modi e mi pare di dire, non torno a me che sono in ritardo per la messa. E dopo tipo 30 minuti che stavamo aspettando, sono arrivati tutti. E certo, il coso non arriva prima. Insomma, il tipico orario calabrese, dai. Tutti puntuali, no? Undici in punto. E finalmente eravamo tutti pronti a cominciare, tutti in ritardo, pure il prete ad aspettare. Stavamo incredibili. Ma anche lui finalmente era pronto. Un piccolo emma che tremava tutto il tempo, ha fatto la sua recita. Infatti... ... 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